Ciao a tutti io sono Nojitsune e oggi insieme a voi faremo un make up molto halloween su le skinwalkers. Quale delle skinwalkers? Dato che ce ne sono tre. Quella che ha la mascherina rossa che riprende un pochino tutte e tre. Allora per iniziare vi consiglio di lavarvi bene il viso perché se no questa cosina bianca qua non si attacca quindi vi lavate il viso io l'ho già lavato e vi struccate bene gli occhi il viso tutto quanto poi prendiamo questa che è una di quelle tempere per il viso io l'ho presa ai cinesi perché è l'unico posto dove l'ho trovata ok dopo aver preso questa bianca ovviamente prendiamo della carta igienica la nostra bellissima carta igienica ne prendiamo un po e facciamo una bella pallina questa pallina sporchiamo bene con il colore bianco e poi ce lo passiamo sul viso per sporcarlo dato che lei ha il viso praticamente bianco e lo sporchiamo mi raccomando non deve essere troppo bianco mi raccomando non deve essere troppo bianco e lo spettante come vedete io lo metto anche un po' sulle labbra dato che lei ha le labbra molto bianche e lasciamo fuori la parte degli occhi dato che questa poi ci servirà il rosso ci servirà rossa ok ora che abbiamo fatto il nostro bellissimo viso bianco da fantasma mi raccomando il naso perché questo andrà fuori ora che abbiamo fatto questo possiamo prendere la cipria bianca quella trasparente io ho questa di Peggy Sage ed è molto buona adoro ho lasciato fuori un pochino di mento copriamo il mento ok prendiamo questa cipria io la prendo con questo pennellino qua da sfumatura perché non voglio sboccare con altro ne prendiamo un bel po' e la mettiamo sul nostro bellissimo volto così dato che questo bianco è molto cremoso noi lo andiamo praticamente ad essiccare dato che come potete vedere anche voi nella foto della skinwalker è molto secco è molto secca la sua faccia sembrava quasi terra bianca spalmata in faccia noi le prendiamo la mettiamo su tutto il viso adesso le metto un po' qua sul tappo così facciamo prima fate attenzione a non respirarla perché fa tossire qualsiasi cosa magari insistete anche di più su alcune parti del volto dato che alcune parti sono molto più bianche di altre ora che abbiamo fatto bianco tutto il viso io l'ho passato anche sulle sopracciglia un pochino nei capelli per farli sembrare sporchi ovviamente prendo un primer io uso quello dell'Avon che è di questo colore qua color carne praticamente e lo vado a mettere nella parte che andrà colorata di rosso e abbiamo messo il primer nella parte che andrà fatta russa mi raccomando fate due triangoli qua andiamo a prendere un ombretto rosso io uso questo qua adesso sembra un pochino scuro perché c'è poca luce però è più rosso non 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 Sì Ora che abbiamo fatto la mascherina possiamo passarci sopra con un pochino di rossetto rosso Io uso questo qua della Pupa, il Matte Lip Fluid Che è fatto praticamente così e dopo diventerà ovviamente matte Dopo aver passato il rossetto Il rossetto rosso su tutta la maschera Potete mettere anche uno opaco sempre però non della Pupa Per forza potete mettere quello che volete Ripassiamo un pochino col rosso per fare giusto delle ombreggiature E anche per fissare un pochino il rosso Magari fate bene l'omergiatura questa del naso Che dà profondità comunque al volto Ok dopo aver fissato bene il rosso e aver passato con il rossetto Possiamo prendere Puliamolo Questo pennello che abbiamo usato prima per la cipria Lo puliamo un pochino Questo pennello qua E poi ci dobbiamo passare con il nero Io uso questo qua non mi ricordo dove l'ho presa Però è molto carina perché ha questi colori E qua c'è il nero che ovviamente ho usato tantissimo Però prima di metterci il nero Dobbiamo metterci un altro pochino di primer Perché sennò non si attacca bene Quindi prendiamo un pochino di primer E lo mettiamo dove andrà fatto il nero Intorno all'occhio Ovviamente se l'ho sporcato un pochino col rosso Non fa niente perché tanto il nero È più scuro del rosso Ok Se ho sporcato un po' il rosso Non fa niente Un pochino come faccio io Ci passate un po' il dito E passa subito Ok Mi pulisco bene la manina Sembra che ho ucciso qualcuno Ok Prendo il mio pennellino per sfumatura Prendo il nero E vado a fare il contorno dell'occhio Fatto perlomeno tutto il contorno dell'occhio con nero Possiamo sfumarlo con un po' di rosso Ok Dato che abbiamo lavorato su tutta la faccia Vi consiglio di ripassare un pochino Dove c'era il bianco Prendiamo ancora la nostra carta E la pucciamo sul viso Ok Dato che ho sbagliato e sono andata sul rosso Posso riprendere il pennello che ho usato E tac Non c'è più Il bianco sul rosso Wow Possiamo ripassare anche nei contorni Dove ci sembra un pochino più diverso Che dall'altro lato Ok Il trucco è finito Vi ringrazio di essere rimasti con noi Fino ad adesso Se volete anche vestirvi qualcosa del genere Potete optare su Che ne so Dei jeans Dato che all'anno vince un pochino fresco Dei jeans beige Marroni Una camicia beige o marrone sempre Anche nera Oppure una gonna in pelle Se volete fare una cosa un pochino così Una gonna in pelle con delle calze marroni Anche senza calze Degli stivali Ve li consiglio tantissimo Gli stivali Perché fanno molto Grintoso E magari anche un top in pelle Una giacchettina in pelle Qualcosa Vi ringrazio ancora E ciao Gli stivali Che fanno Che fanno Quino Che fanno Che fanno Grazie a tutti.